La Guardia Costiera di Pesaro e gli uffici marittimi dipendenti di Fano, Gabice Mare e Marotta aumenteranno in questo fine settimana la presenza sul litorale, programmando una serie di uscite in mare con le proprie unità navali, motovedette, gommoni e moto d'acqua, sulle quali sarà imbarcato anche un infermiere e personale della Croce Rossa italiana. Importanti sono alcuni consigli di ramati per salvaguardare ai bagnanti, ad esempio non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche, anche se sei un buon nuotatore e non sforzare il tuo fisico. Dopo una lunga esposizione al sole, entra in acqua gradualmente, lascia a trascorrere almeno tre ore dall'ultimo passo prima di fare il bagno. Non allontanarti oltre ai gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la bagnazione e non allontanarti dalla spiaggia oltre 50 metri usando materassini, trassini, caleggianti o piccoli canotti gonfiabili. Infine, evita di tuffarti dagli scogli. Prima di uscire in mare con la barca, inoltre, si ricorda di aver carburante a sufficienza per andata e ritorno, di controllare le attrezzature di sicurezza, lo stato di carica delle batterie e il funzionamento del radiotelefono, ma anche di informarsi sugli eventuali ostacoli alla navigazione, come ad esempio le correnti marine, di non trasportare mai un numero di persone superiore a quello per cui l'imbarcazione è abilitata e anche di informare della partenza i familiari, gli amici o conoscenti, indicando anche l'ora prevista per il rientro in porto.